Francesco Totti ricompare dopo giorni attraverso i racconti dell'amico Alex Nucetelli, la verità sul tradimento ai danni di Hilary Blasi viene a galla Francesco Totti ricompare dopo giorni attraverso i racconti dell'amico Alex Nucetelli, la verità sul tradimento ai danni di Hilary Blasi viene a galla Relativamente alla separazione da Hilary, tuttavia, moltissime questioni risultano ancora poco chiare A far luce sulla vicenda, ancora una volta, è stato l'amico di lunga data Alex Nucetelli, che ai microfoni di estate in diretta ha voluto fornire alcune informazioni in merito al pupone Alex, oltre a rivelare quello che sarebbe lo stato d'animo di Totti, avrebbe anche confessato la verità sul tradimento con Noemi Bocchi Che fino ha fatto Francesco Totti? Parla l'amico di lunga data Alex Nucetelli Novamente intervistato dai conduttori di estate in diretta, Alex Nucetelli ha cercato di far luce su quello che parrebbe essere lo stato d'animo di Francesco Totti Quest'ultimo, sparito dai radar, è ricomparso dopo molti giorni proprio grazie alle parole dell'amico Quando si attraversa momenti di questo tipo non si è mai al massimo, ha puntualizzato l'intervistato, alludendo senza neanche troppi giri di parole alla situazione della coppia, stanno cercando un equilibrio, la priorità resta il benessere dei figli Come osservato da Gianluca Semprini, si vocifera che Totti abbia chiesto a Ilari di rimanere a vivere a Roma, nonostante il lavoro della conduttrice la veda principalmente impegnata a Milano Nucetelli, che non ha saputo fornire informazioni più precise al riguardo, ha però tenuto a precisare una serie di altre questioni Francesco è una persona molto attenta, ha assicurato Nucetelli, non vuole creare stravolgimenti Un'osservazione sposata in pieno da Alba Parietti, ospite di Estate in diretta, che si è accodata a lui nel sottolineare l'indiscussa generosità dell'ex calciatore In seguito, i conduttori hanno punzecchiato l'amico di Totti in merito alla tanto chiacchierata serata in cui l'ex di Ilari avrebbe conosciuto Noemi Bocchi Nucetelli, messo alle strette, ha finalmente ammesso la verità Totti Noemi, emerge la verità sul tradimento ai danni di Ilari Blasi Ormai da giorni, sul social è divenuto virale il video in cui si vedono Francesco e Ilari presenziare ad una delle tante serate organizzate da Alex Nucetelli Poco distante dal tavolo della coppia, cosa che non sorprende affatto, c'era proprio quello a cui era seduta Noemi Bocchi Le parole dell'amico di Totti, in questo frangente, hanno finalmente fugato ogni dubbio Entrambi sono frequentatori delle mie serate. Si erano già conosciuti ad un torneo di Padel, ma si sono sicuramente rivisti durante la serata documentata nel video La testimonianza di Alex, dunque, ha confermato quello che era trapelato nelle scorse settimane Francesco e Noemi, ancora prima di ritrovarsi a quella famosa serata in discoteca, si erano già messi gli occhi addosso, a fronte di una Ilari all'oscuro di tutto Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie a tutti